E quindi noi adesso dobbiamo consegnare un prezioso riconoscimento per un libro e naturalmente anche per un cortometraggio perché questo corto si ispira al libro, questo libro si ispira a un'autobiografia, mi sembra il gioco del perché. Allora io invito qua Omar Riafisco, Augusto Pinti e Ivan Mattei. Grazie, raggiungiamo il centro del nostro meraviglioso megagalattico studio. Allora un impegno importante, dalla propria vita si scrive, dalla scrittura si passa poi alla pellicola, quindi insomma è un percorso vasto che tocca un po' tutti i settori ma tocca anche tutte le corde dell'anima. Sì esatto, intanto volevo ringraziare Maurizio per avermi dato la possibilità di venire qui insieme a Augusto Pinto e Ivan Mattei. Io porto avanti da due anni questa testimonianza dove ho scritto questo libro autobiografico che si intitola Contro Smodeo. Perché la necessità di scrivere? Perché parlo di una storia molto difficile, molto particolare e scrivere mi ha aiutato molto a superare quel periodo. Quindi diciamo io porto avanti proprio questa testimonianza importante e grazie all'aiuto di Augusto Pinto e Ivan Mattei ho reso possibile anche realizzare un cortometraggio che ha reso ancora più incisivo questo messaggio. Si è realizzato un sogno. Si è realizzato. Io sono del parere che ognuno di noi nella vita nasce con una missione da compiere. Assolutamente sì. Io ho trovato la mia. Aiutare le persone, il prossimo e portare avanti un messaggio di fede, un messaggio di speranza. Ecco Omar, io volevo anche aggiungere questo. Tu hai vinto, alla sesta edizione del premio Lucio Dalla, avevi vinto il premio della letteratura. Esatto. Che ti abbiamo riconosciuto, per cui è un ritorno questo il tuo qui a premio Lucio Dalla. E quando mi accennasti appunto del cortometraggio che stavate mettendo in produzione, ho detto sì, mi piace, mi piace l'idea di un ritorno e che questo libro in qualche modo si sta, come dire, realizzando anche in un cortometraggio che magari l'immagine dà anche qualche profilo in più al libro e anche a te come persona. Esatto. Per cui io adesso vado un attimino a prendere il riconoscimento. Prendere il riconoscimento. Per te? Quando in genere si scrive c'è sempre qualcosa di importante, è proprio da esprimere, parte proprio dal cuore. Certo. Guarda, in questo caso è stato semplice perché il libro di Omar tocca delle corde intime che per chi le sa far vibrare, poi farle dare la luce mediante l'immagine è molto più semplice. Quindi è da leggere assolutamente. Sì. Allora, intanto partiamo da questo ambito riconoscimento. Per te, Omar, vi affisco. Che naturalmente condividi anche con una parte di quello che ormai è diventato un po' la tua famiglia, no? Ivan. Sì, io sono il regista, sceneggiatore e montatore del corto. Quindi hai carpito. Sì, non è stato semplicissimo perché dovevamo mettere in scena l'atto finale di questo scontro tra un uomo e un demone. Non è semplice, è un po' un Davide contro Colia, però ce l'abbiamo fatta. Bravi e buon lavoro. Buon lavoro e continua con la tua missione.